Gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale stanno cercando di capire cosa sia successo ieri mattina lungo la strada statale 113 all'altezza del bivio di Acqualadrone. Qui un ciclista di 63 anni è stato ritrovato privo di sensi sull'asfalto dagli automobilisti che percorrono quotidianamente quel tratto di strada. Adesso l'uomo si trova ricoverato in prognosi riservato al papardo. Secondo una prima ricostruzione, il 63enne era in sella alla sua bici quando, per causa in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio e ha urtato un muretto ai margini della carreggiata. L'uomo è finito sull'asfalto ed è stato soccorso dal personale del 118 allertato dagli automobilisti in transito lungo l'importante arteria stradale. Arrivato al pronto soccorso del papardo, gli sono stati riscontrati diversi traumi e per questo motivo i medici hanno deciso di non sciogliere la prognosi sulle sue condizioni. Per fortuna indossava il casco protettivo, indagini in corso per capire se a causare l'incidente sia stato un altro mezzo oppure sia stato autonomo.